Buongiorno, ho già improvvisato questa cheesecake Praticamente ho messo la base di questi biscotti che già vi avevo mostrato sono light senza zuccheri E poi ho messo lo yogurt greco e un po' di marmellata light e questi frutti di bosco Vediamo com'è Vedete sotto ci sono i biscotti, si vede come amore? Ti piace? Buona Meno male Buona colazione Ragazzi devo dire che è buonissima E il mio amore prende altri biscotti E' veramente veramente buona, vedete? C'è la base di biscotto Devo dire che vi consiglio di farla il giorno prima Perché secondo me diventa ancora più buona Vabbè questi erano i biscotti ma sono finiti Vabbè Amore ci hai rovinato tutta la mia ricetta Vabbè E qui la ricetta vuoi? Comunque è buonissima Grazie, buongiorno Benvenute in questo nuovo vlog Io sono tutta preparata Mi sono truccata Io ho fatto un trucco semplicissimo Capelli mossi Effetto beach waves E oggi andiamo a scattare Quindi faremo un bel po' di foto Per delle novità Che non vi voglio dire Ancora non vi voglio svelare Però sono pazzesche Vi portiamo in un posto stupendo E vi devo far scoprire un'altra cosa bella Perché ho preso un po' di cosine Per la casa Per sapere se vi piace Come ho disposto queste novità Adesso ve li faccio vedere Così magari mi date qualche consiglio E anche io magari posso essere utile a voi Allora qua c'è Pupi Pupi Chi c'è? Allora ragazze Praticamente ho preso questi quadri Che sono bellissimi Adoro Che veramente li vedevo A un sacco di persone Finalmente ho scoperto il sito che li vende Si chiama Desenio E vi lascio anche il mio codice Per avere il 35% di sconto Pensate che è tantissimo Già costano poco Veramente sono molto molto convenienti E sono anche belli Cioè ti riempiono proprio la stanza Li potete tenere sia così Vedete poggiati Ad esempio questi qua Hanno anche Vedete il cosino dietro che si poggia Ci sono le frasi Ci sono i paesaggi C'è di tutto Sia appenderli al muro Sono veramente veramente belli Ho preso questo con le rosa Invece è un sacco super romantico Questo qua con il tram Vedete è bellissimo Questo di Prada Vabbè è un classico Veramente costano poco Andate sul sito a vedere Anche le cornici Le ho prese sempre su questo sito Ci sono di tantissime misure Di tanti colori Ci sono anche questi Che in realtà non so bene dove mettere Magari consigliatemi voi Questa è una frase bellissima Che mi dà molta positività Questa con il mare Questo con il mare è anche molto bello Ti piacciono? E questo qua anche è bellissimo Vedete è bellissimo Comunque venite a vedere sul sito Ora ragazzi Avete il 35% di sconto Sul sito Desenio Con il mio codice Carlita Dolce Quindi risparmiate un sacco Vi assicuro che Veramente potete prendere Un sacco Un sacco di questi quadri E cornice Ad un prezzo top Però è valido Soltanto dal 23 al 25 luglio Quindi da adesso Che oggi è 23 Fino al 25 Potete fare l'ordine Quindi io vi dico Affrettatevi Perché veramente Sono bellissimi Questi quadri Le cornici Bello tutto Io ho fatto un po' Di scorta Anche per la casa nuova Li potete mettere in camera Da letto dove volete E lo sconto Del 35% Vi ricordo Con il codice Carlita Dolce È valido Su tutto il sito Desenio Su tutti i quadri E le cornici Tranne Quelli della categoria Collaboration E personalizzati Comunque vi scrivo bene Nel box Informazioni sotto Io vi dico Che mi sono innamorata Di questi quadri E voglio fare Assolutamente Un altro ordine Perché voglio prenderli Anche per il soggiorno Perché sono veramente Veramente bellissime Poi Vedete Ci sono anche Queste frasi Sempre questa qua Together is our Favorite place to be Insieme È il nostro Posto preferito Magari mettete questa E poi una foto Della coppia Anche bellissimo Comunque sono bellissime Quindi Andate su Desenio Usate il codice Carita Dolce Che vi dà il 35% Di sconto Che è tantissimo Ragazze Adoro Sono innamorata Veramente pazza Di questi quadri Di come sta avvenendo Adesso questi quadri Devo appendere E ne voglio prendere Assolutamente altri Anche per il soggiorno La testa Si riesce a vedere se si è sporgirato? Che si è sporgirato? Che si è sporgirato? Perché quello stava con l'oculetto Ah Ecco Anzi Si è girato Si è girato? Perciò Ho sentito tutti quei movimenti Forse Ma Un tremendo La testa Questa è la testa Questa è la testa Questa è il dorso Qua si è il curento E qua stanno le piccole parti Quindi capito come sta? Così Testa Il dorso I piedi qua I piedi qua Si Qua il ginocchio I piedi qua Perciò qua è duro sempre Si Si If you had it Though I was too funny She's gonna walk It's gonna be the dark sun Oh 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 le sfogliatelle ragazzi la visita dal ginecologo è andato bene adesso per festeggiare e lui ha detto che sono ingrassata altri due chili mi ha fatto il rimprovero e noi festeggiamo così ma come si fa a dire di no dai festeggiamo i 12 chili ma come sono pesanti amore mangiamo mangiamo si comunque stiamo a casa della mia amica la visita è andata tutto bene baby pesa un chilo e due io sono ingrassata altri due chili i vigili ecologo mi hanno improverato e adesso ho appena mangiato due sfogliatelle una riccia e una frolla va bene non mi ce la trova dieta però comunque è tutto ok ho detto che esce bene tutto è bellino però ha la testa un po' grande come il papà ma io non ho la testa grande amore un po' si amore l'importante è che sia piena la testa che vuoi comunque guardate che tramonto c'è da casa la mia amica non si vede perché non si vede eh no perché è lontano guardate che bel tramonto c'è qua da casa la mia amica c'è un tramonto fantastico ragazzi eccomi qua con la mia meravigliosa collana che a mangiare adoro questa è una delle mie preferite la potete mettere anche corta vedete allora vi volevo dire un po' il risponso dell'ecografia perché in tante me l'avete chiesto su instagram è un po' difficile insomma fare queste storie lunghe quindi mi riservo qua di su youtube per parlarvi un po' più a lungo e vi volevo dare anche un po' di consigli sui prodotti eterea poiché abbiamo lo sconto su caritashop.com del 20% su questa marca che non va mai in saldo in tantissime state approfittando e vi volevo dire quali sono dei miei must per il corpo appunto per l'abbronzatura, anticellulite, appunto proprio per l'estate per la cura del corpo che li adoro e vi ricordo che il codice è eterea20 che è valido su questi prodotti e su tutti i prodotti eterea su caritashop.com ed è valido fino a sabato, questo sabato quindi approfittate, fate in fretta, fate scorta di tutto perché con questo codice risparmiate il 20% che è tantissimo su questi prodotti che non saranno mai più scontati quindi veramente fate scorta ve lo dico proprio col cuore perché sono top questi prodotti allora l'olio che vi straconsiglio per la cellulite è questo qua questo è un prodotto fantastico anticellulite è veramente una bomba di estratti e ingredienti anticellulite è favoloso ed è ottimo perché elimina la ritenzione è veramente ottimo da fare dei massaggi quindi è favolosissimo, contiene caffeina, contiene tutto quindi questo ve lo straconsiglio poi col dispenser è comodissimo quindi l'olio anticellulite e prendetelo ok lo mettete tutti i giorni adesso faccio proprio la routine poi fate lo scrub prima di andare al mare o comunque 2-3 volte a settimana questo qua non è proprio uno scrub ma è un gommaggio quindi non rimuove l'abbronzatura anzi enfatizza l'abbronzatura la rende omogenea toglie se avete le pellicine molto spesso mi dite olio della pellicina o la pelle è screpolata questo è ottimo e la cosa bella è che si può fare anche sul viso tanto che è delicato ho un gommaggio viso e corpo appunto certo qua alla mandorla e cacao è buonissimo un profumo stupendo è così soffice che la cosa bella è che sotto la doccia lo fai sia sul viso che sul corpo quindi è praticissimo mi piace guardate è tipo una mousse è buonissimo soffice veramente veramente ve lo straconsiglio vi lascia la pelle super morbida e vi elimina tutte le imperfezioni sia dal viso che dal corpo poi piace questa cosa rapida viso e corpo guarda 2-1 ok e poi usate al mare questo qua che è l'olio Sol Invictus olio solare questo qua è un prodotto top perché è un prodotto che non solo stimola l'abbronzatura quindi attiva l'abbronzatura perché contiene anche estratto di carota eccetera ma è anche abbronzante voi però comunque usate sempre la protezione mi raccomando vi ho parlato di solari lo sapete quali sono quelli l'Archemilla Cosmesi Siciliana la saponare li trovate tutti sul mio shop sono top sono tutti fantastici quindi mettete una bella protezione e l'olio solare lo mettete comunque dopo per illuminare la pelle per idratarla per appunto enfatizzare aumentare l'abbronzatura ovviamente quando si vede un po' più scura perché sono comunque potesse bruciare però questo qua essendo biologico e naturale è veramente veramente buono e appunto lo potete mettere sia prima sia appunto durante l'esposizione appunto vi ho detto perché sia attiva l'abbronzatura sia la enfatizza quindi è ottimo proprio un olio abbronzante è buonissimo da carota e poi comunque metto tutti i link dei prodotti nel box informazione di questi qua così subito li trovate però se venite nella categoria eterea su caritashop.com il codice sconto eterea 20 è valido su tutti i prodotti quindi non solo su questi e poi c'è questo che è fantastico questo si chiama Supreme Oro Corpo che ha una funzione appunto illuminante idratante sul corpo ma anche anti smagliature ed è ottimo anche da utilizzare come dopo sole è veramente fantastico anche perché questo qua è profumatissimo e contiene mix di oli di mandorle dolci di cocco di jojoba di argan di albicocca c'è veramente di tutto qui dentro veramente ci sono le vitamine bisabololo vitamina C è favoloso infatti ci dice che combatte l'invecchiamento e le smagliature donando elasticità e tono e in più lascia la pelle setosa e contribuisce a fare tipo come se fosse un dopo sole come si fa a far durare di più l'abbronzatura utilizzando prodotti come questo che vanno a idratare tantissimo la pelle e infatti rassodano anche la pelle la mantengono elastica e contrastano le smagliature anche e in più fanno durare di più l'abbronzatura proprio rendono proprio il colorito ancora più bello ancora più abbronzato come se enfatizzassero l'abbronzatura vedete ed è buonissimo e poi ha una profumazione fantastica molto molto dolce aglomata molto buono che quindi vi rinfresca tantissimo allontano anche le zanzare quindi è ottimo e veramente vi ho fatto una routine nel corpo fantastica vi strano consiglio questi prodotti perché veramente vi fanno una pelle bellissima soda liscia senza smagliature tonica e vi fanno durare tantissimo se seguite questa routine l'abbronzatura vi dura tantissimo comunque dopo questa piccola parentesi perché spesso mi chiedete sempre sempre di darvi consigli sui prodotti nel mio shop quindi cerco sempre in ogni video di comunque di parlarvene anche perché vogliamo parlarvene allora abbiamo fatto l'ecografia e baby si è girato praticamente secondo me quando siamo state in vacanza a forma intera vi ricordate che avevo detto che è stata male se avete visto quel vlog avevo sentito un sacco di movimenti secondo me si è girato in quell'occasione quindi adesso già è pronto con la testa in giù e poi è tutto perfetto è tutto a posto cresce bene e pesa un chilo e due io invece ho messo altri due chili quindi ho messo dodici chili dall'inizio della gravidanza e quindi devo un po' mettermi a dieta però comunque tutto bene tutto va benissimo per quanto riguarda me io ho molto di meno nausea mal di stomaco sto molto meglio da questo punto di vista anche se comunque ho sempre questo problema delle gambe gonfie della pesantezza quindi mi aiuto tanto anche con i prodotti con i massaggi eccetera quindi però insomma sto molto meglio quindi tutto bene ragazzi oggi si va al mare così ma da vi giuro oggi mi sento così stanca non ce la faccio proprio comunque questo qua l'avevo preso a Zanzibar con una matata c'è stato troppo carino scarpette comode e il mio meraviglioso chiama Angeli oggi ho messo questo qua in oro che è bellissimo con il cuoricino che ho abbinato agli orecchini vi faccio vedere allora i chiama Angeli che trovate tutti sul mio shop online che stanno andando a ruba in verità quindi questo è il chiama Angeli bellissimo con il cuoricino vedete quanto è bello e la collana così che poi si può regolare stanno andando a ruba sul mio shop online non so se è rimasto questo comunque venite a vedere sono tutti stupendici sono anche in argento anche modelli diversi quindi ho abbinato questo qua con gli orecchini con gli orecchini cuore vedete che hanno appunto proprio lo stesso cuoricino appeso molto molto carino comunque ragazze perdonate l'aspetto ma sono praticamente stanchissima oh mio dio vi giuro non lo so penso mi addormentero sotto l'ombrellone che poi tra l'altro non riesco a stare più tipo di un'ora un'ora e mezzo massimo due ore me devo andare perché veramente mi stanco tantissimo e poi sto sempre sotto l'ombrellone ovviamente ve lo dico a fare che bello il mare andiamo che bello bravo 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 Cattiva, non si fa, guarda, guarda, cattiva, si è sboccata tutta, dai dopo dobbiamo fare Tornate a casa, un piccolo riposino, la pappa a pupi e adesso si esce Guardate, praticamente sono andata al mare, mi sono messo queste due mollettine, non lo so, non mi convincono tanto Però ho questo ciuffo un po' svolazzante, quindi me le sono messe, erano quelle là che avevo preso su Asos Vi ricordate che feci anche il video, comunque, e poi, vedete, mi sta facendo un sacco questa piega così E vedete i capelli mossi sotto, adoro, e poi mi sono messa stavolta il mio chiamangeli, questo qua a cuore Che è stupendo, uno dei miei preferiti, pure oro, bellissimo, con il mio panzone E adesso andiamo al sushi, ovviamente io mangerò solo le cose cotte Ho abbinato agli orecchini, questi qua, con i cuoricini Perché in tanti mi chiede questa cosa del sushi, quando vado, mangio solo le cose cotte C'è chi lo mangia, il crudo, però preferisco evitare A parte, proprio per una questione mia, che è comunque di digeribilità Perché ho molti problemi di digeribilità, di stomaco, eccetera, e quindi voglio evitare Comunque, sono contenta perché vi ho fatto proprio un vlog completo Dove vi ho fatto vedere proprio un sacco di cose Adesso vi faccio vedere anche un po' della scena che abbiamo fatto Io adesso ho praticamente tipo un riflusso Cioè, prima dalla nasa, sono passata al male di stomaco Adesso sono passata al riflusso, quindi è tipo un bruciore Cioè, proprio qua, da qua a qua, c'è tipo un bruciore Che è veramente bruttissimo Vedete com'è bello? Questo qua è quello a cuore ed è bellissimo, io lo amo Sempre con la targhetta che ho scritto Carlita C'è sempre i pupi vicino, vedete? E con la catena, sempre con le palline È uno dei miei preferiti, questo qua È veramente troppo troppo bello Anche da indossare tipo più corto Tipo come una collana Così tipo, anche potete farlo Faccio vedere anche il vestitino Che so che me lo chiederete Questo qua non è prima mano come vestitino Ma è un vestitino normale Che tra un altro po' non mi andrà più Ho preso una taglia in più L'ho preso M invece della mia solita S E l'ho comprato da Zara Vedete? È molto molto semplice La cosa è bella E c'ha questa qua Però non stringe tantissimo Questo dovrebbe andare in vita Invece lo metto un po' più su alla pancia E vi ripeto Penso che Da tipo una settimana non mi andrà più E poi ho messo le scarpe basse Perché non so Ditemi voi Donne incinte come fate Ma io non ce la faccio a portare le scarpe alte A parte che ho paura di cadere E si intonano anche perfettamente Al mio chiamangeli Anche questo qua sto andando a ruba Quindi se lo volete affrettatevi Perché se no non lo trovate più Questo è il mio outfit Pagetti di soia Poi ci sono i danami I raggoli Gli oli Con il salone pronto Questi sono i noodles Poi ci sono Kemaki Onigiri E riso con gamberi E qua ci sono Le alghe Buon appetito amore Ragazzi questo è un dolce Cioè è gelato nella frutta Io adoro quello con le noci Grazie a tutti